ciao allora oggi sfogliamo l'album numero 12 del libro che valido fino al 4 ottobre del 2017 vedrete che ci sono tantissime novità ma soprattutto promozioni offerte tutto per la bellezza per il make up e perché no per coccolarsi un po io direi di non esitare oltre ed iniziare subito a sfogliare il catalogo iniziamo allora a sfogliare il catalogo eccolo vediamo subito dal sommario che ci sono davvero delle cose molto molto interessanti e vediamo subito che con 20 euro di acquisto di palotti trucco che ora vi mostro sia in omaggio la pochette che è molto anche bellina e come si può dire dato che è un color oro e anche chic e poi è bella da portare sia da vedere che da portare dentro la borsa ma intanto veniamo con la grande novità eccola perché è la tinta labbra effetto matt lunga durata 14 euro 95 per 7 ml ed è un tinta davvero super pigmentata con olio di camellia che quindi non va neanche a seccare le labbra vediamo tutti i colori che sono dalle toni del nude oppure del malva del rosa oppure i rossi e devo dire che ce ne sono vari che mi piacciono davvero tantissimo ovviamente anche la nuova tinta fa parte dei palotti che con 20 euro sta in omaggio alla trousse gli altri palotti sono la matita labbra il matitone glossy il primer labbra oppure i rossetti eccoli qui il rouge vertige che è fantastico come rossetto ide correttori i vari fondotinta per tutti i tipi di pelle eccole qui il correttore la cipre opacizzante i farde o blush la terra primer occhi e tutti i colori di ombretto che sapete che sono davvero tantissimi effetto matte effetto parlato gli ombretti eccoli qua a lunga durata il eyeliner le matite occhi hanno davvero una durata estrema anche le matite occhi e le matite occhi jumbo la matita sopracciglia che è quella che io preferisco in assoluto la matita col le matite eccole qui quelle waterproof che davvero provate tutt'estate durano tantissimo e ovviamente tutti i mascara eccoli qui quindi 10 euro e 20 euro di prodotto sia in omaggio la trousse vediamo ora la novità della linea serum vegetale la sleeping care è una crema notte rigenerante dice di avere un'efficacia rigenerante nella crema notte unita a leggerezza di una formula innovativa che penetra i veri e istantaneamente nella pelle intanto è una formula senza siliconi coloranti o illuminari parabeni 50 ml in offerta 15 euro 95 promette di notte dopo notte rigenerare la pelle ridurre le rughe distendere i tratti e rigenerare al viso naturale luminosità oltretutto dice essere una crema ricostituente allo stesso tempo leggero non occlusiva lasciare spiegare la pelle durante la notte e devo dire che questa sicuramente la proverò vediamo ora la novità della linea sensitive vegetale perché abbiamo la crema detergente delicata allora 125 ml in offerta 7 euro 95 è una crema detergente per le pelli sensibili senza solpati alcol silicone coloranti e parabeni dice di avere una texture in crema per eliminare impurità e detergere dolcemente le pelli più sensibili come si usa? semplicemente si applica il polotto sul disasciutto e sugli occhi si massaggia delicatamente e si risciacqua con abbondante acqua e la pelle è struccata vediamo il set di etersione che comprende la crema detergente delicata più l'acqua micellare alimentiva 2 in 1 a 12,95 euro oppure abbiamo il set di etersione della linea idra vegetale che comprende gel detergente freschezza e l'acqua micellare idratante 2 in 1 a 8,95 euro vediamo ora il set di etersione della linea sebo vegetale che comprende il gel detergente purificante e l'acqua micellare purificante 2 in 1 a 9,95 euro il set di etersione della pool system con il gel detergente purificante e la lozione purificante a 9,95 euro e ora vediamo la grande novità piccoli piaceri per le mani perché eccole qui sono le nuove creme mani della linea Plasia Nature sono delle mini taglie senza coloranti o agli minerali e parabeni con burro di karité eco solidale e il 95% di ingredienti d'origine naturale sono piccoline perché sono 30 ml a 2,95 euro quindi le trovo perfette da portare ad esempio in borsa o da tenere nel cassetto in ufficio si hanno le varie profumazioni che sono olive e peti di grain oppure mango e coriandolo, noce di cocco e vaniglia barbon devo dire che la noce di cocco e la vaniglia barbon le devo assolutamente provare perché mi piace un sacco con la profumazione della linea classica veniamo ora ai dei set, eccole qui, dice fai il pieno di energia e di fai tà il primo set detergente profuma comprende il bagno doccia da 200 ml e l'acqua profumata energizzante da 100 ml a 9,95 della profumazione albicocca e rosmarino oppure sempre albicocca e rosmarino abbiamo il set detergente idrata a 7,95 il bagno doccia da 400 ml e già l'idratante energizzante da 200 ml e questo era tutto l'album allora abbiamo sfogliato tutto l'album, vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box ci sono i contatti per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf, il catalogo così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi elettronici e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con il magico naturale mondo di Brochet